ciao ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi nuovo tutorial andremo a fare un orecchino davvero semplice ma soprattutto con pochissimi materiali ve li mostro subito sono questi sono principalmente delle 8 0 in due colori dorate e nere pochissime 11 0 e pochissime 15 0 e poi come vedete ci sono soltanto tre perle come abbellimento sono davvero semplicissimi e si fanno anche subito leggeri come vedete l'orecchino si mantiene rigido potete utilizzare sia un filo di nylon che il far line vanno bene entrambi oggi invece ne andremo a fare in questa colorazione che a me piace piacciono molto queste rocaille che sono con queste sfumature bronzo e sono matt allora passiamo ai materiali ed ecco qua i materiali allora come vi dicevo delle 8 0 sono queste bellissime 8 0 della miyuki con queste sfumature bronzo poi sempre 8 0 dorate delle 11 0 delle 15 0 ma ne serviranno pochissime e poi soltanto tre perle ad orecchino e una monachella o un perno a vostro piacere come filo andrò ad utilizzare un far line da 0 15 colore black bene questo è tutto il materiale che servirà per realizzare questi orecchini che sono davvero semplici e adesso mi prepara il materiale e iniziamo il tutorial un abbraccio a tutti ciao iniziamo inseriamo sul nostro ago 6 11 0 portiamo alla fine del filo tenetevi un po di codina alla fine e adesso andiamo a rientrare soltanto nella prima e tenete l'altra codina del filo ben stretta ora tra una 11 0 l'altra andremo ad inserire le 8 0 quindi inseriamo la prima 80 andiamo a inserire la prossima la terza 80 e contiene continuiamo in questo modo fino alla fine ricordate di non lasciare e tenere ben tesa questa codina tra le dita ecco qua il risultato io sto tenendo sempre ben tesa questa codina ora uscita da una qualsiasi 80 che abbiamo inserita ora mettiamo una 80 una 11 e di nuovo una 80 non usciamo da questa parte e rientriamo dalla parte opposta ora andremo a rientrare nella prima e usciamo dalla 11 0 tirate bene il filo qui andremo ad inserire 380 io sarò quella centrale color dorata il filo esce da questa parte noi rientriamo dalla parte opposta vedete in questo modo ora rientriamo in queste 80 che abbiamo appena inserito formeremo dei piccoli petali tutti intorno quindi rientriamo in tutte vedete in questo modo ora se fate caso qui ci sono due spazi vuoti le andremo a riempire con le 80 quindi prendiamo la prima 80 e ci inseriamo in quella di fronte tirate bene ora ripassiamo sotto rientriamo nella prima e di nuovo una 80 e ci inseriamo in quella di fronte ed ecco qua abbiamo formato un piccolo petalo ora rientriamo in quella centrale scendiamo giù perché adesso ci dobbiamo portare ad uscire dalla prossima 80 perché dobbiamo fare lo stesso lavoro quindi io rientro in questa 11 0 qui centrale rientro nella 80 in quella sotto e poi rientro la 11 e mi porta ad uscire dalla prossima 80 è molto semplice e qui dobbiamo ricominciare quindi due 80 e una 11 centrale il filo esce da questa parte e rientro dalla parte opposta ora vado a rientrare nella prima 80 ed esco dalla 11 0 qui metto sull'ago di nuovo 380 il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta e tiriamo bene il filo e rientriamo nelle 380 queste che abbiamo messo adesso ora prendiamo di nuovo una 80 e ci inseriamo in questa di fronte e abbiamo formato il secondo petalo e abbiamo formato il secondo petalo sulle restanti 80 e questo sarà il risultato ora portatevi ad uscire da una 80 quella del primo giro perché adesso dobbiamo inserire la nostra perla centrale quindi prendiamo la nostra perla vedete da dove esco mi vado a rientrare in quella di fronte dallo stesso lato io sto usando delle perle che sono da 4 mm ma non sono proprio 4 mm sono leggermente più grande se usate una normale perla da 4 mm dovete inserire le 15 0 il laterale vedete invece questa è leggermente un po più grande quindi non serve ora vado a rientrare di nuovo nella perla e mi vado ad ancorare alla stessa 80 dalla quale sono partita ora mi vado già formare la parte superiore dell'orecchino quindi rientro in queste perline qui della base rientro in questa 80 nella 11 centrale e risalgo in queste 80 uscendo dalla penultima di questo lato perché mi andrò a formare questo quindi vado ad inserire 3 8 0 1 11 e altre 3 8 0 esco da questa 8 mi vado a inserire nel petalo di fronte nella 8 0 che corrisponde a quella dalla quale sono partita e abbiamo formato la parte superiore del nostro orecchino ora dobbiamo ripassare in quest'arco quindi io faccio in questo modo vado a girare intorno e torno indietro e adesso rientro di nuovo in queste 8 0 esco dalla 11 0 e mi vado a formare il cappietto dove poter inserire il nostro perno o la monachella così dopo non dobbiamo tornare indietro quindi ho messo 6 11 0 ora rientro in tutte per stringere bene ed ecco qua ci siamo formati la parte superiore ora attraversando le perline scusate ci dobbiamo portare ad uscire da questo petalo laterale sempre da una roccaio 8 0 in questo caso vedete è la penultima prima di quella centrale dorata quindi dobbiamo riattraversare le perline e portarci ad uscire da questa 8 0 eccoci qua dobbiamo uscire da questa roccaio 8 0 ora inseriamo 3 roccaio 8 0 una 11 e altre 3 roccaio 8 0 da questa roccaio ci dobbiamo inserire in quella di fronte dell'altro petalo vedete e tirate il filo formeremo il primo arco ora attraversiamo la roccaio 11 0 questa centrale risaliamo e usciamo dalla prossima 8 0 sempre la penultima di questo petalo qui di nuovo altre 3 8 0 una 11 e di nuovo 3 8 0 da questa 8 0 ci inseriamo nella 8 0 di fronte del prossimo petalo e abbiamo formato e abbiamo formato il terzo arco rientrate nella 11 centrale e risaliamo portandoci ad uscire sempre da questa penultima 8 0 che si trova quasi alla fine e qui di nuovo altre 3 roccaio 8 0 1 11 e 3 8 0 sempre come prima e ci inseriamo nella 8 0 del prossimo petalo vedete? questo sarà il risultato ora rientriamo nella 11 perché dobbiamo tornare indietro nella 8 0 di nuovo nella 11 e adesso risaliamo per entrare di nuovo in queste roccaio appena inserite ci portiamo ad uscire dalla prima 8 0 dopo la roccaio 11 0 dorata qui andremo ad inserirne 4 di 8 0 una 11 e altre 4 sempre 8 0 4 8 0 una 11 e 4 8 0 da questa roccaio di questo arco ci dobbiamo inserire nella penultima roccaio dell'arco centrale vedete? e uscire dalla 11 0 e abbiamo formato anche quest'arco da questa parte da un lato qui andremo ad inserire una perla quindi mettiamo sull'ago 2 15 una perla da 4 e una 15 0 portate tutto alla fine del filo rientriamo soltanto nella perla lasciando perdere questa 15 0 e nella prima 15 0 che incontriamo dopo la perla mettiamo sull'ago di nuovo una 15 0 noi vedete usciamo da questa parte rientriamo nella 11 0 dalla parte opposta ora il lavoro che dobbiamo fare è soltanto ripassare un attimo di nuovo in tutte queste perline ecco qua sono ripassate di nuovo in tutte queste perline per stringere bene il lavoro sto scendo dalla 11 adesso ci portiamo ad uscire dalla prima 8 0 sempre dello stesso arco vedete qui di nuovo dobbiamo inserire 4 8 0 una 11 e altre 4 8 0 da questa 8 0 che è la prima di quest'arco ci dobbiamo inserire nella 8 0 che corrisponde alla terza dell'ultimo arco che abbiamo formato prima prima della rocaille centrale in questo modo e così abbiamo ottenuto anche il secondo arco ora noi dobbiamo ripassare in tutte queste perline e dobbiamo tornare indietro dobbiamo formare l'ultimo arco l'ultimo arco qui alla base quindi io faccio lo stesso lavoro che ho fatto prima torno indietro ripassando sempre per quella 11 0 centrale del petalo mi inserisco di nuovo in queste 8 0 in questo modo si rinforzerà anche l'orecchino e adesso usciamo dalla prima 8 0 dopo quella dorata e adesso ne inseriamo 6 di 8 0 una 11 0 e di nuovo 6 8 0 sono 6 8 0 una 11 e altre 6 8 0 da questa un 8 0 dopo la 11 ci andremo a inserire nell'arco di fronte nella penultima rocaille prima di quella centrale vedete è semplicissimo ora rientriamo di nuovo in tutte e facciamo la stessa cosa perché dobbiamo tornare indietro quindi mi vado ad inserire in queste rocaille ripasso nella 11 0 centrale di questo petalo e torno indietro e adesso ci portiamo ad uscire dalla 11 0 qui alla punta perché dobbiamo inserire l'ultima perla vedete dobbiamo inserire l'ultima perla quindi rientriamo in tutte ed usciamo dalla 11 0 qui di nuovo inseriamo 2 15 una perla e una 15 0 come abbiamo fatto prima portiamo tutto alla fine del filo saltiamo la 15 rientriamo nella perla e nella prima 15 0 subito dopo prendiamo prendiamo di nuovo una 15 0 e ci inseriamo nella 11 dalla parte opposta da dove siamo partite vedete in questo modo ora bisogna soltanto ripassare di nuovo in queste perline per stringere bene il lavoro dopo di che vi fate un giro di rinforzo e l'orecchino è terminato è davvero semplice faccio un attimo questo lavoro e ci vediamo dopo ed ecco qua il nostro orecchino è terminato come avete visto è di una semplicità unica questo è l'altro queste sono gli altri due il modulo è davvero semplice semplice da realizzare e a me piace molto questa forma allungata io spero tanto che vi sia piaciuto fatemelo sapere nei commenti chi ancora non si è iscritto si iscrive al canale e attivi la campanella così state sempre aggiornati su nuovi video per il momento io vi saluto vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto ciao a tutti